buongiorno ben trovati buon sabato primo giugno iniziamo il mese del sacro cuore ecco oggi il santo del giorno è san giustino martire giustino nato in fama in san maria nei primi anni al secondo secolo da una famiglia pagana e fu attratto fin dalla giovinezza dagli studi filosofici giustino passò da una scuola all'altra anelando la verità ma senza trovarla sempre deluso dalle diverse filosofie a circa 30 anni incontrò la fede cristiana che definì la sola sapienza certa e fonte di salvezza e fu tanto entusiasmato dalla scoperta della fede di cristo che si propose di annunziare a tutti la subnefollia della croce dopo un soggiorno a efeso si stabilì a roma dove aprì una scuola e tenne pubbliche dispute verso l'anno 150 compose le due famose apologie dedicate all'imperatore antonino più e marca aurelio per esporre le ragioni dei cristiani perseguitati denunziato da un filosofo rivale giustino fu condannata alla pena capitale con altri sei compagni la sua passione narrata dagli atti autentici del martirio avvenne al tempo di marca aurelio probabilmente nell'anno 163 ci affidiamo alla sua intercessione per crescere anche noi nella fede cristiana unica vera sapienza ecco il vangelo di oggi secondo il nostro rito ambrosiano lettura del vangelo secondo luca in quel tempo furono portati quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale secondo la legge di mosè portarono i bambini a gerusalemme per presentarla al signore come è scritto nella legge del signore ogni maschio primo genito sia sacro al signore e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi come prescrive la legge del signore ora a gerusalemme c'era un uomo di nome simeone uomo giustepio che aspettava la consolazione di israele e lo spirito santo era su di lui lo spirito santo gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il cristo del signore mosso dallo spirito si recò al tempio mentre i genitori portavano il bambino gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse dio dicendo ora puoi lasciare o signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli luce per ribellarti alle genti e gloria del tuo popolo israele parola del signore può sembrare un po strana la lettura di questo brano che è il vangelo che si legge al 2 febbraio alla presentazione del signore ma è nella rita ambrosiana è collegata alla prima lettura di oggi che è tratta da levitico 12 in cui appunto si racconta si stabiliscono scusate queste norme che vengono osservate appunto da giuseppe e da maria come facevano i buoni devoti figli di israele e tutto sommato che capite in questo primo sabato del mese di giugno è bello perché oggi è sabato primo sabato del mese è dedicato al cuore immacolato di maria e il cuore di maria in quel giorno fece di gesù un'offerta l'offrì al padre e risuonò alla profezia di simeone anche te una spalla trasfiggerà l'anima e maria accettò impariamo da maria a donare noi stessi e anche i nostri figli lasciandoli liberi perché facendo la volontà di dio seguendole sul cammino della vita con la preghiera il sostegno e impegnandoci perché possano conoscere dio e amarlo in verità buona giornata che la vergine santa vegli su di noi sia lodato gesù cristo